Giulia Salemi è molto dimagrita, cosa che non è sfuggita ai fan che la seguono con molto affetto da tempo. Cosa c'è dietro il suo dimagrimento così evidente? L'ex GFina si è espressa sull'argomento, chiarendo ai follower la natura del rapporto con il proprio corpo. Mi sono tormentata per anni. Ha confessato Giulia, spiegando come sia riuscita ad ottenere l'attuale forma fisica. Anche la sua carriera sta sbocciando, come dimostra la sua presenza al grande fratello Vip, in una nuova veste. Inoltre, di recente, Giulia Salemi ha tenuto un discorso alla Camera contro la violenza sulle donne, apprezzato da tanti. Ebbene, sembra proprio che sia un periodo d'oro per la Salemi, sempre più ammirata per la sua smagliante forma fisica. Come ha fatto Giulia Salemi a perdere molti chili? Sono più sicura di me, più matura. Fisicamente è un miracolo. Mi sono tormentata per anni, ho sofferto perché non riuscivo a trovare una forma fisica adatta, passavo da diete ferre al divorare qualsiasi cibo. Ero infelice. Ha ammesso la giovane, spiegando poi l'origine della sua rinascita che l'ha portata alla forma fisica desiderata. Giulia Salemi rivela sulla perdita di peso, è stato lui la mia dieta. Giulia Salemi non è dimagrita a causa di un problema di salute, ma è riuscita a perdere peso in maniera molto semplice, come ha spiegato lei stessa. Sono cambiata dopo il, GF Vip e grazie a Pierpaolo, che mi ha dato molta serenità, è stato lui la mia dieta. Insomma, il rapporto della Salemi con Pierpaolo Pretelli ha giovato molto alla ragazza che, sentendosi più rilassata, è riuscita a raggiungere l'equilibrio anche a tavola. Il successo può essere deleterio. Ho visto persone che si sono rovinate, pensando di averlo raggiunto. Ha rivelato Giulia Salemi, spiegando, bisogna mettersi in discussione, senza perdere umanità. Raggiunta la forma fisica ideale, Giulia ha eliminato anche le sue insicurezze, cosa che non è sfuggita ai fan che la vedono sempre più a proprio agio in ogni contesto, dalla camera ai riflettori del grande fratello Vip. Tali fattori hanno fatto sì che sbocciasse anche la personalità di Giulia Salemi, una donna di successo che ha saputo conciliare impegni lavorativi e vita privata. Leggi anche, Stefano Bettarini tuona contro il, GF Vip, Mi vergogno per voi, e bufera sui social.